Un altro fuori programma in questo viaggio apostolico è arrivato al termine dell'incontro interreligioso ed ecumenico presso l'Arcivescovado di Dacca quando il Papa ha chiamato intorno a sé un gruppo di profughi rohinghia fuggiti dal Myanmar. Parlando a braccio, Francesco ha ricordato la grande tragedia che vivono questi fratelli e sorelle e ha chiesto perdono per il male loro arrecato e per l'indifferenza del mondo. Continuiamo ad aiutarli a muoverci perché siano riconosciuti i loro diritti, è stato il suo monito, mentre ha affermato con dolore che la presenza di Dio oggi si chiama anche rohinghia. Ai leader religiosi poco prima l'invito a vivere nel rispetto delle reciproche differenze cooperando al bene comune. La cooperazione tra i credenti ha spiegato infatti Bergoglio e il cuore pulsante di una cultura di armonia e di pace. Quanto ha bisogno il mondo di questo cuore che batte con forza per contrastare il virus della corruzione politica, le ideologie religiose distruttive, la tentazione di chiudere gli occhi di fronte alle necessità dei poveri, dei rifugiati e delle minoranze perseguitate. Questa quinta giornata di Francesco in terra asiatica era iniziata con la messa nel Suradawi Udian Park di Dhaka davanti a 100.000 persone durante la quale il Papa ha ordinato 16 nuovi sacerdoti regalando così una festa alla piccola ma vivace chiesa del Bangladesh. Ai presbiteri l'invito a seguire sempre l'esempio del buon pastore mentre ai fedeli presenti la raccomandazione di sostenerli con generosità e soprattutto con la preghiera. Terminata la messa il pontefice ha avuto un colloquio con il primo ministro del paese la signora Sheikasina ha visitato la cattedrale di Dhaka sostando in preghiera nella cappella del Santissimo. Altro incontro importante avvenuto nel pomeriggio quello con i vescovi del paese ai quali il Papa ha chiesto di unirsi contro il terrorismo pronunciandosi pubblicamente ad una sola voce per rifiutare la violenza ammantata di religiosità. La chiesa in Bangladesh fatta anche di laici in particolare di catechisti ha ribadito si distingue per razzelo missionario spirito di collegialità e mutuo sostegno da qui ha riaffermato l'importanza di coltivare l'apostolato verso i poveri e i bisognosi senza mai dimenticare lo spirito ecumenico.